musica 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 e qui Wolf e Jacopo Mi finalmente controllo io e stiamo facendo i nostri soliti lavori in corso allora aspetta aspetta le casse sono vuote e tutto lì per ora poi dovremmo organizzare meglio le casse per capire subito dove la roba ma teoricamente non dovremmo altre zatte? ah si due forse ok allora faremo tutte comunque iniziamo qua mettiamo il ferro il ferro e il carbone ecco facciamo già confusione con le casse bravo ok a lavoro poi quindi allora mettiamo via tutto scopito questo qua che per adesso non ci serve questo blocco mettiti ancora un altro no no vabbè ok poi c'è anche il blocco vabbè questo qua ci servirà ci servirà quando faremo ecco io non ho ancora capito come si fanno le corde per prendere gli animali come le buche eccetera lo scopriremo probabilmente lanciando le cordicelle ma non ne sono sicuro quindi poi scopriremo tutto quanto qui facciamo continuiamo da farlo sempre riportiamo lì non usiamo le canne al zucchero e poi facciamo un altro tanto per le canne al zucchero quando le abbiamo io ci avrei una domanda da fare Wolf cioè se tipo i lati che sono di pietra li trasformiamo in in lati di terra andiamo più ma no ma accetta che poi ci passiamo su un po' e beh e che vanno con c'è di niente ma non lasciamo così vabbè dopo quanto altro ne abbiamo dè intanto il nostro scopo è quello sempre di arrivare al portale del Lenny una volta una volta ucciso il drago questa mini serie finirà quindi e poi iniziamo una volta serie ormai siamo abbiamo quasi fatto cioè ci manca soltanto l'arco incantato il tavolo di incantesimi e poi andremo a fare magari un giretto nel Nether per vedere com'è sperandogli di morire e poi andremo nel Nether e uccideremo il drago che sarà complicato molto di cui infatti si occuparà iacopo e sarà molto molto complicato in modalità estrema così almeno se la missione fallirà sarà tutta colpa di fuori giusto anche perché ricordatelo abbiamo soltanto una possibilità quindi se falliamo in un'estrema siamo un po' nella merda comunque dettagli tecnici coloro che sia adesso poi dobbiamo quindi iniziare a organizzarci per fare finiti i segni allora aspetta adesso iniziamo a fare il pane e poi magari andiamo a salutare i creeper non c'è neanche più l'ho scappato c'è 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 c' Ecco, questo minuto di silenzio è per l'inter del riguro. Per i clip. È per i clip. Ah, ecco, a proposito, ci dispiace, non possiamo più fare le battute sui clip in seguito a ripetute minacce che si sono verificate. Perché, insomma, erano delle minacce piuttosto chiare. Cioè, se ti trovi un biglietto in casa che dice, stai attento che esplodiamo. Eh, preferisci non fare certe cose, però vabbè. Denunciamo i creeper perché ci hanno minacciato. Cavolo. C'è poi il piccone d'oro, è peggio del piccone in modo indietro. Quelli sono dettagli. Ok, ora dobbiamo pensare a come, dove mettere i nostri animali. Facciamo una farm allo scoperto? Tipo qua. Qua ci stava una grande. Ma lo stavo pensando che o lo facciamo... Regalò, gli animali sono lì. Allora, aspetta, facciamo... Quindi lo facciamo qua. Sì, poi... Allora, aspetta. Facciamo... Allora, ti ricordi com'è che si fanno le steccato? No. Parte che io direi di farlo al coperto, eh, se permetti. Eh, allora, no, facciamo... Allora, aspetta, iniziamo con... Senza steccato, fallo al coperto, tanto... No, perché facciamo tutto al coperto... E poi nei vari steccati, i vari simili animali. Mi steccolo. Eh, non era steccato, se non lo sbaglio, era... Allora, facciamo ancora... Barriera. Allora, facciamo... Ah, sì. Giusto, vediamo subito con cos'è. Libro, bottola, jukeboxy... Oh, il jukeboxy è interessante come si fa. Recensione. Allora, ricordati, no, questa cosa è ricancello. Dicisi recensione e trovi... Ah, sì. Allora, ricordati la... Com'è che si fa... Il jukeboxy. No, come la recensione e il cancello. 1, 1, 1, 1 e 2. Vai a cercare recensione. Ne. Ma non è che la recensione cancello è la stessa cosa che la recensione. Perché mi viene in dubbio. No, perché questo qualche è in ceblo. Allora, no, aspetta, perché... Allora, facciamo... Aspetta, allora... Fa schifo. Fa schifo sto sito. Sencipitamente. Questo qua sarà un live... Piuttosto craftante. Sì. Ah, 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 ah. Allora, poi collasso. Allora, collasso. Facciamo... Costanti. Il bastone. Secondo me, se si fa, non si fa, non si fa col bastone. Speriamo. Ecco, recinto. Sei. Quindi ricordati, va a aver tanto... Lascia l'aperto. Così, quindi al centro. Stacciolata. Stacciolata, ma vaffanculo. Ho sentito dei rumori. Ma è lo scorso? No, ho sentito proprio uno zombie. Aspetta, c'è una cosa. Io inizierai prima a coprire il tutto, poi a fare il resto. E allora, aspetta, ci serve la terra. Perché, ragazzi, noi facciamo tutto in terra. Perché, secondo il nostro carissimo amico che lavora alla CIA. La terra è l'energia del futuro. No, perché dice che con la terra nessuno ti può scoprire. Comunque, se io vedessi un edificio perfetto in pietra, in terra, poi qualche dubbio sul fatto che sia la terra. Non è normale, ma fai il mio male. Quindi facciamo l'entrata qua. E a quanto lo facciamo grande? Un bel profano, bello grande. Quindi allora. Io ecco, fai due. Tre, quattro. E così almeno qua facciamo l'entrata. Giusto. Ok, qua c'è l'entrata. Adesso poi poi facciamo due. Perché c'è due? C'è no, perché io vericamente inizio a fare il terremetto di due e poi faccio tutto. Giusto. Mi pare anche una buona, insomma, idea. Due. Puntelo prolunghi lì. Sì, ma qua poi diventa un po' difficile. No, ma andava... Andava bene anche... E non poterlo facciamo tanto. Un po', ma non è esagerato. Cioè, tanto poi stanno tutti in uno stesso recinto e ci sovrappordino, eh. Fino a qua? Sì, va bene, fino a via. No, solitamente dovremmo anche iniziare a fare il terremetto. Sì, per le finestre, sì. Poi dopo iniziamo col fare così, poi dopo... Ok. Ok, ho visto lo zombie o ho visto male? Ho visto male. No, c'è lo zombie. Mi pareva lo di questo. C'è anche un console che strisce. Ah, la mucca. E poi c'è del turno. Mi sa che è morto il problema. E va, finito. Faccio spavolto. La nostra risposta è fatica che è morto un povero pollo e non ci dice. Poi, nei server di WGP su Minecraft, di cui vi ho già parlato tanto, c'è uno che di nome fa un pollo. Con tante opinali, soprattutto. E salutiamo il vostro caro Dexter che ha inventato questa parola qua. Ecco, il nostro caro Dexter che ha inventato un pollo. No, è stato lui che ha inventato il grido un pollo. Con la sua grandissima minchia adventure che purtroppo non è fatta il mio rispiaccio. L'unico motivo per come si è iscritto al suo canale. Perché non li fa più? No. Ma, perché è bucato? Ma che cazzo? Vabbè, una creazione sporadica di... Non tanti. C'è Minecraft, crea le cose abbastanza case. Io, ricorda, l'avevo fatto vedere a Jacopo Mi e a Stefan Carlos la puntata di Mimo Intervento, lì, che imitava con Metal Jacket. Sì, ed era veramente penosa. Perché? Non ti ricordi il tardissimo soldato di Ancanele? Sì. Ed era veramente penosa proprio per quello. Perché te non hai mai visto il film? Quanto è che fare ci fa? Dai, ma cazzo. Ma ancora un altro buco. Tu posso fare un buco unico? Mai nel cartone unico unico. Minecraft è un po' adesso unico. Ma non doveva essere alto 4? Eh sì, ma perché è 4, poi conta che va 3, perché sul quarto metto... Il soffitto. Sì. Io l'avrei fatto alto 4, quindi tutto soffitto. Non c'è. Ti basterà con le mucche. Eh, è solo che tutte le altre costruzioni sono alto 4, quindi soffitto. No, la nostra è sempre alta così. Che schifo. L'ho fatta io. No, ti garantisco che è alta 4, perché l'abbiamo fatto per far crescere bene le canne. Le canne a zucchero si crescono fino a 6 cubetti di altezza. Per me sono fatta io anche un verbolle. Che dici. Eh, ti contiamo così qui. Uno, due, tre. Ma scusa, ma... Il canne a zucchero per quanto altro mi piace. Eh, ma per questo ti ho detto che qua l'avamo fatto all'altra parte. Ma sembra che ci fosse un ragno volante. Sì, dettaglio. Tanto volano sempre. No, è vero. Poi, secondo me abbiamo sbagliato a fare il tetto piatto. Perché? Ehm... Perché diciamo che il creeper è sempre piaciuto il tetto piatto. Dettaglio. Che c'era in dentro? Questa era pazzesca. Il creeper è sempre piaciuto, ne? 13. Sai che 13 porta sfida? Sai che la batteria scarica? Eh, lo sai che c'è uno stupido scheletro, lo slender? No, ma lo slender non è più un problema per lui. Tanto se non rompi lo disturbo, di solito. Eh, lo scheletro sì. Eh, lo scheletro sì, sei troppo vicino. Vedi, non fa tutto. Oh, è una figata che non ti fanno più danno da quando abbiamo... la nostra super armatura. Certo che se vai a dire io ero lo slender man che sei lì. Ma che non ti attaccano i mob, perché in Minecraft non sanno chi sei. Eh, ma infatti è troppo bello vedere la loro espressione con i sole. Sì, soprattutto quella di creeper. Perfetto. Ok, adesso siamo... Manca qua. No, ma aspetta, io direi però di fare l'apertura un po' che ti do più gado, perché si devono passare degli animali che sono stupidi. E poi come facciamo, mettiamo due porte. Eh no, non puoi farla così, devi accorciare tutta la scavace. E la facciamo. Ci mettiamo i porti. Ok, questo lo ammette, non era abbast... non era previsto. Questi sono dettagli, insomma. Vabbè, distruggiamo tutto. E tutta terra arriva da miocco. Poi sta rompendo la terra con la terra e che è molto intelligente. Eh, ma fa un po' da invare la pietra. Ti vorrei ricordare che io ho trovato una piana che è un buco unico, no, una... una montagna unica. E l'ho resa tutto piatto. Io ho reso un mondo il super piatto. Sul cellulare. In Pocket Edition. Dobbiamo fare la missione, rendere un mondo tutto piatto. Infatti sarà questa, dopo aver fatto la... Ema che parla sti buchi. Dopo aver fatto... Dai, dai. Dopo aver fatto il portale in land, quando si rispona con tutta la roba che avevamo nell'inventario, più esperienze al massimo, il nostro obiettivo finale sarà rendere il mondo tutto super piatto. Quindi... Potete immaginarvi che divertimento. Sì, poi qua ci mettiamo... Allora, adesso poi... Accorcio la scala. Ah no, ma aspetta, facciamolo... Siamo nei casini, perché qua è alto 1. Sa quando si sanno tutta l'alba, d'alto? Sì, se no glielo metti sotto. Tanto devono arrivare dall'alto. Vabbè, dai, mettigli, mettigli sto coso qua. Mettigli lo sto pianale alto 1. Eh sì, ma il problema che poi qua, com'è che serviamo nello schermo? Ci penso... Ah no, aspetta, facciamo una cosa. Ah sì, oh... Ho spento lo schermo, sì. Troppo divertente, non so come abbiamo... Non so se voi l'avete visto oppure no, però siamo riusciti a spegnere lo schermo. Ci è venuto un colpo, perché di solito Windows fa questo scherzetto. L'1 e l'1. Ecco. Adesso abbiamo un buco in cap... no. Io vorrei... Aspetta, facciamo una cosa. La cosa qua è geniale. Voglio sentire questa proposta qua. Allora, rompiamo. Ah, ho già capito cosa che fai. Versiamo l'1. Giusto. Geniale. Un applauso a Wolf che ha avuto sta idea. Vada, è tutto. No, allontanati. No, 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 no. Torna in casa. Scambia... Chiudi, no, no, scambiamoci i posti. Esci? Ok, allora. Gente, c'è un creeper. Allora. Questa è un'emergenza. Abbiamo una spada che fa cagare. Quando avevamo quella in diamante. Però non possiamo prenderla. perché quando ha aperto l'inventario il gioco non è in pausa. Quindi... Divertiamo. Aspettiamo. Allora. Così abbiamo tutto il tempo. Lui non sa che siamo qui. No, non abbiamo in inventare una spada. Oh, sì. Sì. Allora. Dobbiamo farla entrare in casa perché combattere con sulle scale è un casino. Ah, io non mi piace. Ma cosa sta facendo? Cazzo, c'è... Cos'è? Ah, una buca. La buca si è mancata. Bravo. Scendi, bello. Scendi, bello. Cazzo. Se ne salta qui ci fa un disastro. Ok. Poi giustamente va con qui. Vabbè ragazzi direi di chiudere qua anche perché è un telefono scarico. Chiudiamo qua. Quindi comunque le perle a tutti da Wolf e da Jacopo alla prossima puntata continueremo con la. Esatto, ci sono. Metto anche via la polvere da... Dove Madonna è? Dove l'è messa la polvere? Aspettiamo. Ah ma la... No, il primo clip è il che uccidiamo. Io no, ce l'avevo atto. Sai di qua. Ah no, l'abbiamo presa dalla... Che fine ha fatto? Eh, scomparsa. Cioè, scusa, l'avevamo messa qua. Ma... È stata... È sparita. Ero sicuro che l'avevamo presa dal dungeon? Povera la polvere da sparo mi parla sempre di nostro. Vabbè, pazienza. Abbiamo perso la polvere da sparo e siamo fieri, no? No. E con questo chiudiamo. Bella a tutti.